Tarifa rifiuti azzerata per un anno per i nuovi negozi, dimezzata per i subentri in attività esistenti. Così il Comune di Broni prova a incentivare da un lato le nuove aperture. La cittadina è da diversi anni, secondo Ascom quella meno brillante della zona rispetto a Casteggio e Stradella per esempio, e dall'altro a ridurre l'impatto degli aumenti sulle tariffe definiti dalla municipalizzata Broni-Stradella pubblica per finanziare gli investimenti previsti dal piano industriale. Nel bilancio appena approvato è stato inserito un fondo di 28.000 euro per questo scopo, di cui 8.000 per gli aiuti alle attività commerciali e 20.000 per quelli destinati ai cittadini in difficoltà. Secondo quanto stabilito, le famiglie con redditi inferiori a 5.000 euro saranno esentate dal pagamento, mentre fra 5.000 e 8.000, redditi comunque davvero minimi, si pagherà la metà. Intanto su un altro fronte, quello dei lavori pubblici, nelle scorse ore il Comune ha reso noto il finanziamento da parte di Regione Lombardia di un contributo di 320.000 euro per la messa in sicurezza della frana di via Recoaro. Per proteggere le case minacciate dagli smottamenti, saranno eseguiti altri 40 metri di massicciata paramassi per concludere i lavori già iniziati lo scorso anno. La frana, nel gennaio 2020, ha imposto l'evacuazione di quattro famiglie. Dopo i lavori dello scorso anno, due sono rientrate, mentre altre due sono ancora in attesa di poter tornare a casa. Grazie. 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 Grazie.